Porca puttana troia. Ok, facciamo anche questa. Tom Ryder, la più grande star di film d'azione del pianeta. È scomparso. Devi riportarlo qui o il film di Jodie è morto. Perché io? Tu sei uno stuntman, non ti noterà nessuno. È il tuo lavoro. Ti sei offeso? Beh, un po' sì. La clama? Los Angeles. Pericolo è il suo secondo nome. Il primo è Severs, Colt Severs. Ed è uno stuntman innamorato di Jodie Moreno, assistente alla regia che sta per fare il grande salto e girare un film tutto suo. E come ogni stuntman che si rispetti, Colt è pronto a tutto. Farsi saltare in aria, sparare, schiantarsi, lanciarsi dalle finestre da ogni altezza possibile. Tutto per il nostro divertimento. Tu pensi che un batte di baseball mi va a perdere? Cut! Prendere il batte falsa? Non necessario. Io voglio usare il batte di baseball per creare un'esperienza autentica. Tom, questo ci darà un'amore. Non facciamo questo. Sono Tom Cruise. Sono in Scientology e faccio i miei miei stunts. Ora chiedi a action o sei fuori! Action! Cut! Cut! Penso che questo è il motivo che si chiamano la guerrilla di guerra. Cut! Viene il guerrilla di VFX, guerrilla? No, no, io vorrei combattere l'attuale guerrilla. Tom, questo guerrilla sarà a riparare il tuo armato. Non lo facciamo. Tom Cruise, sono in Scientology e faccio i miei miei stunts. Ora chiedi a action o sei fuori! Action! Quando però subisce un grave incidente sul set si convince a lasciare la professione eppure l'amata. Ridottosi a fare il parcheggiatore riceve un'inattesa chiamata dalla producer Gale e una proposta che non può rifiutare. Partecipare all'istante di Metal Storm, il primo film da regista della sua ex. Ma c'è un equivoco, perché non è stata Jodie a volerlo sul set, bensì Gale, che gli affida l'incarico di ritrovare la star del film, inspiegabilmente scomparsa sul set di Sidney, ossia quello di osa e arrogante star dell'action. Amatissima da Hollywood che risponde al nome di Tomb Raider, di cui Colt è stato per molti anni la controfigura. Ora Colt si trova davanti alla prova più difficile della sua vita, volare nella terra dei canguri, dove è decisamente un pesce fuor d'acqua, ritrovare lo stronzone protagonista, smascherare una cospirazione e cercare di riconquistare l'amore della sua vita, pur continuando a svolgere quotidianamente il suo lavoro. Ma stavolta sarà pronto a uscire dall'ombra per diventare l'eroe della storia? Chi ama davvero ciò che fa, sa tutto di quella cosa, e sanguando è sempre vero del massimo. Parla di quello che conosci. David Leitch racconta il mondo da cui proviene, ovvero quello dei Stuntman, e firma con The Fall Guy il suo film migliore, destinato, senza sé e senza ma, a diventare un cult per tutti gli appassionati di cinema. E soprattutto per chi il cinema lo fa. Il regista, prima di realizzare il primo John Wick, per cui non fu mai accreditato, Atomica Bionda, Deadpool 2 e l'ultimo spassosissimo Ballet Train, è infatti stato uno dei più importanti Stuntman di Hollywood, controfigura fra gli altri di Brad Pitt in diversi titoli. E lì ci sa quindi cosa significa fare il lavoro duro senza prendersi la gloria. Scrire, credere e lavorare. Quando questo momento è entrato siamo inventati un gruppo, e con il gruppo è possibile fare queste cose che abbiamo fatto. Oggi siamo campioni di Italia. The Fall Guy è un po' il grido di riscatto di questa categoria professionale. Una delle poche a non essere riconosciuta dai premi, in quanto d'oggi non esiste infatti un Oscar, o comunque un premio, per il miglior istante. Certo, nel ruolo dei due protagonisti abbiamo due divi, come Ryan Gosling ed Emily Blunt, che non passano estremamente inosservati, ma il concetto è comunque valido. Anche perché immaginare una coppia diversa per questo film è impossibile, insieme sono strepitosi. Entrambi parte di questa rottura di balle terrificante chiamato Barbenheimer, che nella stagione cinematografica passata ci ha scattato gli ammenicoli, e qui continuano a cavalcare con l'energia, dando The Fall Guy il fattore in più che lo trasforma in una pellicola davvero memorabile. Ovviamente la parte del leone la fa il nostro Gosling, che è sempre più di mostra di funzionare in ruoli in cui non si prende sul serio. E qua in una scena nel traffico cittadino sembra fare il verso a se stesso, al proprio ruolo in The Green Man dei fratelli Anthony e Giorusso. Ma lo spalleggio con buona chimica è mini-blunt, la quale alterna severità e complicità secondo gli schemi della comedia romantica. La trama è molto più intricata di quanto si possa immaginare, merito in questo anche dell'incalzante sceneggiatura di Drew Pierce, autore degli script di Iron Man 3 di Shane Black, Mission Impossible Rogue Nation di Christopher McCarrie, e il regista del notevole Hotel Artemis, già collaboratore di Leech per lo skinpray di Fast and Furious Ops and Show. Che probabilmente è il migliore che hanno fatto. Sì, penso di sì. Che movimenta i momenti di quiete con un fuoco di fila di battute con personaggi secondari caratterizzati da efficaci tormentoni, oltre ad effetti lisericici pop che non avrebbero sfigurato in Scott Pilgrim vs. The Worm di Edgar Wright. Che nemmeno da. Degustibus. Da action, il film diventa un thriller, poi una commedia romantica, un noir, e perfino un musical. Anche un porno. Magari. Porco cacchio! Oh mio Dio! Si è asfissiato da solo con qualche pratica erotica! Sì, mentre guardavo il pagliaccio porno! Oh sì, pupa! Sì, così! Quanto mi fai arrappare! Ed anche metacinematografico. Che è una parola che piace adesso. La gioia di Emily Blunt scrive il finale mentre il film procede e fino all'ultimo non sappiamo se deciderà per un lieto fine o per una conclusione tragica. Di più. Chi conosce il mondo del cinema e l'industria a 360 gradi non potrà non divertirsi con le infinite citazioni dei Fall Guy per le quali Colt, il coordinatore degli stand Dan Tucker, interpretato da Winston Duke, si sfidano continuamente con battute tra i loro film preferiti. Dall'ultimo di... Dall'ultimo di... Dall'ultimo di Michael Mann a Jason Byrne. C'è anche un cane che porta il nome di una start al cinema d'azione anni Ottanta. E ci sono tantissimi riferimenti e situazioni reali riferite per esempio al casting del posto 007 e dei suoi V-Lane. Oltre che un film realmente girato al cui titolo si rifà l'esordio alla regia del personaggio di Jodie ovvero Metal Storm Tempesta Metallica di Charles Baird. Ma non temete, alla parte più celebrale nerd si affianca anche qua l'entrattamento puro. In The Fall Guy vi sono sequenze spettacolari e scene d'azione di altissimo livello oltre a sorprese e a tanti quei guilty pleasure come li chiamiamo noi infoiati di celluloide da accontentare un po' tutti. Formalmente ispirato al telefilm Professione Pericolo di Glenn Larson con la di Mayors e Heather Thomas. Il film gioca in un doppio senso col titolo in inglese che significa sia l'uomo delle cadute e quindi lo stuntman che il capo spettolo. Il protagonista viene incastrato tra l'altro con un espediente che troverete gustosissimo se siete cinefei di razza come noi due. E la sua lotta per dimostrare la propria innocenza si accompagna a uno scontro tra il cinema virtuale degli effetti speciali e quello reale dell'esplosione degli stuntman stavolta chiamati alla riscossa. E' proprio con gli stunt che lo rendono unico il film ha ottenuto anche un risultato registrato dal Guinness World Record quello per i migliori numeri ribaltamenti. Bene, otto giri e mezzo su se stesse di un'auto lanciata in area dell'esplosione. Il pilota a realizzare l'impresa è stato Logan Holiday. Insomma, se amate la settima arte soprattutto quando fa spettacolo e tanti boom boom questo è il film per voi. E sarete in buona compagnia perché tra i fan del film è anche Steven Spielberg che agli Oscar ha abbracciato Gosling facendogli complimenti per questa interpretazione. Eh sì, Ryan è davvero bravo e meritevole di nudi. Quando pensavamo che non potesse essere il più autoironico e divertente di quando c'è stato come Ken in Barbie di Greta Gerwig ecco che arriva Colt gemello più divertente e divertuto dei suoi duri forti e silenziosi protagonisti senza nome di Drive di Nicholas Windingraf film che lo consacrò definitivamente a Cannes e del preti Luke Clinton di Come un tuono di Derek Chan France dai quali Sam Brasser si è discostato dopo la sua dolente performance dell'agente KD6 3.7 in Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve ma è una cosi malattia? No, nel senso che si è fatto un pochettino meno serio di allora quello intendo dire per legarsi più che mai ai suoi reverenti Jaco Palmer di Crazy Stupid Love di Glenn Ficara e John Rekha e Holland March dei Nice Guys di Shane Black di cui purtroppo non vedremo mai il sequel. Grazie mille figlio di puttana testa di cazzo fottuto rompipalle strunzo di me John Spartan lei viene multato di cinque titoli per ripetute sono meglio delle conchigliette ci vediamo prossimamente mi demonisci i miei sogni ha detto lui poco fa ha detto che avevano dovuto decidere se fare il sequel di The Nice Guys o di Angry Birds hanno preferito gli uccellini incazzati è impazzito uccelli di merda è impazzito uccelli di merda è impazzito Amy Blunt non è da meno l'attrice dà prova da tempo di poter interpretare qualsiasi cosa che salta i penalti camera nel cervello e finalmente sta riscuotendo la giusta attenzione che merita adesso le manca solo grande ruolo da protagonista assoluta per la consacrazione nel frattempo godiamoci questa coppia patrimonio dell'umanità in un film in cui comparse in costume d'alieno prendono fuoco l'intelligenza artificiale è più inquietante di qualsiasi criminale in industria cinematografica che viene allo stesso tempo celebrata e presa in giro e come si dice nel film il messaggio va avvolto con del sexy bacon e credeteci The Fall Guy è decisamente croccante al punto giusto ci serve un gran finale quanti ciac hai di questa? ho 5 ciac che meraviglia si e perché dovete andare a vedere The Fall Guy vi state chiedendo innanzitutto perché? lui è ancora citato adesso dopo aver visto il film è una commedia strepitosa che vi piacciono che vi piace al cinema in generale non importa che vi piace a Gosling esatto Emily Blunt la regia di David Lynch che è quello di John Wick a Tom Ica non ha importanza la colonna sonora è strepitosa ci sono gli CDC i Darkness John Buongiorno i Journey piuttosto che i Kiss i Mineskin? no non ci sono te l'ho già detto mi hai già chiesto 6 volte non ci sono i Mineskin ma al di là di quello dovete andarlo a vederlo perché è veramente un signor capolavoro e di repente ti lascia anche un messaggino di finale sì assolutamente e quindi cazzo ci fate ancora qui andate ciao 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 ciao